Benvenuti sull'isola di Second Life dell'Università degli Studi di Torino. Io sono Enrico, uno dei tutor che fornisce informazione agli studenti. Quella dove mi trovo ora è l'area bar, in cui i visitatori parlano e si confrontano. Ora vi porterò a fare un giro per farvi vedere cosa si può trovare sull'isola di Unito. Ci troviamo adesso all'interno dell'aula Magna Rossa, un'aula multimediale in cui è possibile leggere informazioni in PowerPoint o guardare un video inerente alle immatricolazioni. Insomma c'è tutto quello di cui bisogna una matricola per orientarsi e per finire un'intera isola laboratorio che presto sarà aperta ai visitatori. Qui gli studenti potranno mettere alla prova la loro creatività. Per ora è presente la sede delle facoltà umanistiche Palazzo Nuovo. Tutto questo e molto altro lo puoi trovare sull'isola di Unito. Basta trovarci.